Ciao a tutti, sono Pia e oggi sono qua per parlarvi della mia personalissima esperienza con questi bimbi con i cilindri egizi ho avuto una prima fase di tanta 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 stanchezza tanta spossatezza avevo molto da purificare totalmente normale parlandone con erika ma vedendo anche dal dal video dal suo video è comprensibile poi invece c'è stata una seconda fase quella di espansione perché le mie capacità sono aumentate tanto ho visto cose che non vedevo da quando ero piccolina e tanto altro visto sentito insomma hanno funzionato anche bene con i tanti specifici sempre riguardanti le mie le mie capacità extrasensoriali e in questa fase sentivo prima sentivo poco nella prima fase di un po spossatezza sono sincera ma nella seconda ho sentito veramente vibrazioni ma vibrazioni all'interno delle mani scorrere per tutte le braccia in più soprattutto nella parte finale quindi quando vedevo più che altro cioè quando vedevo risultati sul piano fisico ma sentivo poco la parte sulla parte finale di questa fase ho sentito davvero tanto ma scosse quasi scosse elettriche cioè delle vibrazioni correre per tutto il corpo e per me sono stati la svolta comunque sono sono veramente felice di aver fatto il test radiostesico con erica e di averli acquistati perché ormai fanno parte delle mie giornate comunque ascoltatevi sempre perché non è necessario l'utilizzo ogni giorno così come si può fare tre volte a settimana una volta a settimana quando ci si sente perché ci sono stati periodi in cui l'ho utilizzati tutti i giorni e periodi in cui non l'ho utilizzati neanche per una settimana insomma va bene così va bene così e nulla sono felice continuo ad usarli continuerò ad usarli è uno dei migliori investimenti sono sincera ciao